Tormento, tortura, martirio, acuto dolore fisico. Beato colui che neanche in mezzo al tormento rinnega la propria fede. Tormento, tortura, martirio, acuto dolore fisico. C'è base! C'è base! 3 Come and try a Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Tormento, dottura, martirio, acuto dolore fisico, beato colui che neanche in mezzo al tormento rinnega la propria fede. Tormento, 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 tormento.